ragazzi ci siete siete pronti perché cosa ma come per cosa venerdì 29 maggio al teatro europa alle ore 18 e 30 ci sarà la mitica finale del contesto della sicurezza 2015 i love aprilia e la squadra j fox è prontissima e voi avete prenotato in tantissimi ah è vero che bello ci sarà anche il sindaco antonio terra e l'assessore alla pubblica istruzione francesca barbaliscia e ci ha promesso di venire anche l'assessore regionale alle pari opportunità autonomie locali e sicurezza concettina ciminello james fox vi aspetta a braccia aperte per proclamare i nuovi campioni della sicurezza non mancate a